CGL, Cisle, Will, Sicilia intervengono nel merito degli emendamenti presentati alla legge di stabilità dall'Assemblea regionale. Mancano le risposte all'emergenza. Gero Miciche. La legge finanziaria in Sicilia è in discussione in Commissione Bilancio, abbattuta da una valanga di circa 2000 emendamenti. L'esame da parte della Commissione presieduta da Vincenzo Vinciullo dovrebbe concludersi entro venerdì prossimo. Poi il bilancio già approvato e la finanziaria approderanno a Salavercole martedì 16 febbraio per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea regionale. Decine di emendamenti riguardano l'aumento delle poste di bilancio per settori, enti e associazioni care ai 90 deputati regionali. E i sindacati CGL e Cisle, Will, puntano il dito contro il consueto assalto alla diligenza a fronte di mancate risposte alle emergenze. Forti riserve sono state espresse da CGL e Cisle, Will, nel corso di un incontro con l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei e la vicepresidente della regione Mariela Lobello. Secondo i segretari regionali dei tre sindacati, Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone, mancano le risposte alle questioni più spinose, dal finanziamento degli ammortizzatori sociali a quello dei liberi consorsi, dalla riforma dei forestali a quella delle partecipate, solo per citarne alcune. In generale, spiegano Pagliaro, Milazzo e Barone, manca una programmazione dello sviluppo che dia il senso di una visione complessiva e generale orientata a dare slancio all'economia e a favorire l'occupazione, visto che la spesa di investimenti complessiva della regione siciliana si attesta solo al 14%. E ciò mentre è sempre presente la preoccupazione sulla partita degli accordi finanziari fra Stato e regione Sicilia per il rimborso di 500 milioni di euro, la cui eventuale mancanza provocherà ulteriori tagli per la corrispondente cifra. CGL e Cislewil annunciano che, perdurando l'assenza di risposte, proseguiranno e rafforzeranno le iniziative sindacali volte ad assicurare ai siciliani una programmazione economica e finanziaria seria, responsabile e per lo sviluppo anziché per la conservazione dei privilegi e delle clientele politiche.